Eeeh, non fare il pesce lesso! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Eeeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video. Io sono XIUDER e per chi non lo sapesse, questa mattina nello shop è arrivata una skin incredibile. Lo Storm Trooper della saga di Star Wars. Non era praticamente detto nulla ufficialmente da Epic Games fino appunto alle prime ore del mattino dove addirittura è apparso un trailer che confermerebbe anche l'arrivo di una nuova skin del pesce secco. Ma giustamente voi dite, perché hai come sfondo la mappa e sei con il drone? Perché ragazzi, non è l'unica novità che è stata inserita in game. È stato inserito un altro elemento molto molto interessante. Guardate là ragazzi. Prooooot! Se andate in mappa a guardare in direzione 220 potrete iniziare a scorgere la nave imperiale di Star Wars. Momentaneamente è fatta, sembra essere fatta da un bambino perché giustamente non c'è molto dettaglio essendo così lontana ma ci aspettiamo ovviamente nei prossimi giorni che si avvicini e addirittura possa integrarsi con la storyline o comunque dedicare una LTM appunto con Fortnite X Star Wars. Io vi ringrazio per aver guardato questo video molto molto breve. Mi raccomando, iscrivetevi ai canali, attivate la campanella. Noi siamo in live su Twitch. Ciao! 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 Grazie a tutti.